Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo, ben trovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi il suo nuovissimo aggiornamento meteo. Andremo a fare un'analisi più dettagliata per quanto riguarda San Valentino, perché sappiamo che ci sono diminuzioni termiche e delle importanti sorprese. Come possiamo vedere da queste immagini, prossimamente l'alta pressione si andrà a spostare verso la Turchia, favorendo l'ingresso di aria molto più fredda rispetto a quella che abbiamo e anche le precipitazioni. A partire proprio da San Valentino, dalle notte di San Valentino, ci potrebbero essere le prime precipitazioni locali su tutto il lato mediterraneo, su tutta la zona del mar Tirreno e Mar Ligure. Attenzione perché poi a partire dalle prime ore della mattinata le precipitazioni inizieranno a farsi un pochino più intense sulla Liguria e sulla Toscana, come possiamo vedere dalle immagini, ma per ora ancora niente di importante. La vera sorpresa si avverrà in tardo pomeriggio, quando l'aria più fredda entrerà e consiglia anche le precipitazioni. Precipitazioni molto abbondanti si verificheranno sulla Liguria, soprattutto sul centro nord, come stavo già dicendo, sulla Liguria e sul Piemonte. Comunque, localmente, poi sulla pianura del Piemonte, della Lombardia, ci potrebbero anche essere i fiocchi di neve, solamente coreografici, senza relativi accumuli. Possibili fiocchi che potrebbero anche presentarsi a Parma, ma esse, come vi ho già detto, soprattutto durante la nottata, tra la nottata di San Valentino e quella del 15, come possiamo vedere dalle immagini. Infatti, durante la nottata e durante la tarda serata, ci sarà un netto peggioramento sulle coste Liguri e anche su quelle coste oscale, dove ci saranno precipitazioni molto intense. Per quanto riguarda, invece, andiamoci a spostare sul centro e sud. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con passaggi nuvolosi, a partire dal tardo pomeriggio. Possibili precipitazioni locali su tutto il centro e sud, come possiamo vedere anche dalle immagini, ma niente di rilevante. Il tempo andrà poi a peggiorare, a partire la giornata del 15 sul centro e sud. Temperature in netta diminuzione, valori massimi che sul centro-nord, comunque, non dovrebbero salire oltre 10 gradi, sul centro-nord non dovrebbero salire massimi, compresi tra i 9 e i 12-11 gradi, e sul centro e sud stiamo parlando di valori massimi, che potrebbero arrivare fino a 17 gradi. Vi ringrazio della visione, ci troviamo con un nuovissimo aggiornamento medio.